Sparisce una porzione di bosco ad Eraclea Minoa. Gli uomini della forestale di Libera hanno posto sotto sequestro l'area demaniale che costeggia la spiaggia di Eraclea Minoa, estesa a circa mille metri quadrati su disposizione della procura di Agrigento. L'associazione ambientalista Maria Amico di Agrigento denuncia dopo i danni causati dall'erosione costiera dagli anni 80 ad oggi sono spariti più di 150 metri di spiaggia dorata e oltre 50 metri di boschetto. Ora per mano dell'uomo sparisce un'altra porzione di bosco. Qualcuno, approfittando della confusione, ha tagliato diverse decine di alberi ancora vivi senza apparente motivo. Nei giorni scorsi Maria Amico aveva dichiarato che dagli anni 80 ad oggi sono spariti più di 150 metri di spiaggia e circa 50 metri di boschetto. A seguito delle nostre proteste la regione siciliana ha realizzato, approvato e finanziato un progetto di oltre 4 milioni di euro per salvare ciò che resta di una delle più belle spiagge siciliane. Ma ad oggi ancora non si è visto nulla di concreto. Purtroppo i tempi della burocrazia sono diversi dai tempi della natura. L'8 febbraio intanto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci aveva reso pubblico il progetto per la valutazione di impatto ambientale relativo al pieno recupero della spiaggia e del bosco di Eraclea Minoa. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del progetto l'assessorato al territorio e ambiente completata l'acquisizione dei documenti e la fase istruttoria rilascerà la valutazione di impatto ambientale. Poi il Dipartimento Ambiente renderà procedibile il progetto e nei successivi 30 giorni si procederà con l'inizione della gara d'appalto.